buonasera a tutti spero che voi state bene oggi faccio con voi una zuppa marocchina molto molto buona gli ingredienti che ci vogliono per prima ci vuole l'olio un pochino con cucchiaio o due cucchiai di olio di massimo pochissimo e ci si lasciate e lenti che sinceramente fa perché dipende della parte noi siamo dal morocco dipende della parte c'è alcuni che lo usano alcuni che non usano in verità io uso pochissimo solo per la sapore un pochino di fare qui ciò prezzemolo e il coriondolo tritato qualche pezzetto di carne un pochino per questa zuppa qua c'è il sedano tritato con una cipolla piccola e ci vuole coriondolo pepe nero no ci vuole scusate ci vuole prima zenzero sale corcuma e pepe nero tutto qua poi ci vuole la passata di pomodoro che facciamo le cose mano a mano intanto prima di tutto metto come ho detto qua non dico gli ingredienti giusti come voi fate la lasagna non si sa quanto quantità però gli dicono dipende la quantità delle persone che ci sono io ci metto solo un cucchiaio di olio di oliva vi faccio vedere così che non è grande io ci metto di carne cipolla e sedano tritato io ho girato un pochino sedano e cipolla per 5 minuti e metto gli altri ingredienti ci metto gli ingredienti e le ticche vabbè prezziamo il corondolo tritato mettiamo ben zero sempre dipende la quantità quello che volete se avete più grande di potete mettere più sale a gusto come dico sempre corcuma e ci metto almeno 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 ci metto due litri d'acqua vi lascio accorciere per almeno 20 minuti allora vedo dopo 20 minuti vediamo se sono sono quasi cotte qua ho preso i pomodori freschi li ho bollito e li ho frullati per tenere questo potete anche usare questo pomodoro io ho usato fresco poi uso due cucchiai di queste potete anche non usare questo solo la salsa e la quantità di pomodoro non deve essere tanta e non deve essere poca metà andiamo sempre nel livello metà allora aggiungo tutto questo e due cucchiai di passata e lasciamo bollire per 10 minuti allora dopo 5 minuti abbiamo visto che il pomodoro è tutto cotto è cotto prendo due cucchiai di farina ci ho messo un pochino d'acqua e l'ho mischiato così in questo modo lo mettiamo lì potete anche usare la fecola di patate o l'amido di maiz invece di fare la farina e l'acqua potete anche usare l'amido di maiz due cucchiai con l'acqua o la fecola di patate fanno lo stesso risultato che dalla farina con l'acqua allora in questo punto io aggiungo questo potete anche usare un pochino di riso o un pochino di risine io mi piacciono queste allora ce le metto tutte un pochino e mescoliamo allora questo non le metto tutto io lo metto un pochino alla volta vedo la consistenza che voglio io non sarà miglioriamo e prendiamo così vediamo la consistenza che vogliamo noi ecco ecco io voglio mi piace così c'è alcuni che le piacciono un po' densa un po' come volete tanto questa consistenza ora mi va bene e lo lascio cuocere almeno 15 minuti perché ho messo la farina e la farina ci vuole il suo tempo per che sarà ecco la nostra zuppa è pronta io mi piace questa consistenza allora è già pronta spegniamo il fuoco e ci vediamo quando sarà servita ecco ecco la nostra zuppa la serviamo in questo modo ecco ecco la la portiamo per essere servita ecco la nostra zuppa è pronta la serviamo con le fiche secche noi questa zuppa ci voglio sempre i datteri fiche secche poi l'uovo e soda è a posto speriamo che questo piaccio vi piacerà non dimenticate di iscrivere il mio canale e di lasciarmi i vostri commenti e grazie e alla prossima